Dottor Scanavini, le chiedo subito il perché della partecipazione della sua azienda qui a Teco 2015. Dunque, la nostra azienda è un associato storico dell'Asciot, per cui non potevamo... Oddio, dobbiamo... Ok, dottor Scanavini, le chiedo subito perché la partecipazione a Teco e cosa significa concretamente questo appuntamento per la vostra azienda? Dunque, innanzitutto Sommaschini è uno dei più vecchi associati dell'Asciot, quindi non potevamo tirarci indietro per sostenere queste iniziative. Io sono poi nell'associazione da tantissimi anni, credo di essere il più vecchio attivo nel mondo dell'Asciot e questo tipo di iniziative vanno assolutamente appoggiate. Sono iniziative che creano network, che creano conoscenza, partecipazione. Io sono abituato anche negli Stati Uniti, dove sono molto spesso, a partecipare a convention simili ed è una cosa positiva che anche in Italia si incominci a pensare ad iniziative di questo genere, soprattutto quando sono appoggiate da tre associazioni che si integrano una con l'altra. Quali sono secondo lei i messaggi più importanti che dovrebbero arrivare all'industria italiana da questi due giorni di lavori? Sicuramente è una presa di coscienza della propria forza a livello internazionale. E' un peccato che questa iniziativa sia ancora a livello nazionale, magari negli anni futuri, se si raggiunge un buon successo, di coinvolgere anche personalità stranieri in modo che diventi anche magari un appuntamento europeo. Però noi italiani dobbiamo innanzitutto renderci conto della nostra forza per questo. Il titolo, in qualche modo, il tema portante di Teco 2015 è tecnologia come energia per il business. Nel vostro caso, nella vostra esperienza concretamente, come si riverbera? Ma diciamo che sicuramente è sempre legata alle persone. Per cui se le persone sono entusiaste, partecipano, l'energia viene fuori dalle persone, non certo dalla corrente elettrica o dalle macchine. Ecco perché, secondo me, il logo è assolutamente indovinato. Sicuramente però le persone devono anche metterci del proprio per far venire fuori questa energia. Grazie.